Una partenza difficile contro un avversario complicato come sapevamo, però dopo questa partenza credo che siamo stati molto bravi a proporre quello che sapevamo fare, a essere padroni del gioco, a creare occasioni, a trovare il pareggio, a soffrire quando era il momento di soffrire e poi a colpire quando nel secondo tempo gli avversari sono un pochino aperti. Siamo stati bravi ad entrare nelle loro maglie e a ottenere una vittoria credo ampiamente meritata. Sono veramente contento della prestazione di tutti i ragazzi, fare i complimenti a chi ha fatto gol credo che ci penserete voi, ma io ho approfittato per fare i complimenti a lui perché per me fare tre assist come ha fatto lui è altrettanto importante che fare i gol se non di più. Incontrovamo una squadra complicata da affrontare, giocava rapida per poi attaccare velocemente gli spazi, con giocatori abituati a farlo da tanto tempo insieme, quindi era una partita difficile, siamo stati bravi a saperla leggere, a saperla fare nei momenti di difficoltà e a saper trovare gli spazi che ovviamente una squadra così corta e così vicina avrebbe lasciato nell'arco della gara e noi nel secondo tempo siamo stati bravi ad approfittarne. Troppo presto per guardare la classifica, noi abbiamo voglia di lavorare, di provare a migliorare perché sappiamo che possiamo farlo e fra qualche mese vedremo dove ci troveremo perché abbiamo voglia di continuare a migliorare anche tra qualche mese. Non mi fa cambiare idea un risultato, sono convinto che siamo stati bravissimi a fare una grande prestazione ma sono altrettanto convinto che abbiamo ampi margini di miglioramento e abbiamo voglia di migliorare.